Il jeep di Milano ha convalidato l'arresto di Alex Baiocco, il ragazzo di 24 anni accusato di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. Assieme ad altri due complici ha teso un cavo d'acciaio ad Altezza Duomo in Viale Toscana l'altra notte. Era stato bloccato sul posto dalle forze dell'ordine mentre gli altri due giovani erano riusciti a fuggire in sella ad uno scooter. L'allarme era stato dato da un residente in zona che aveva visto i tre a tirare il cavo ad Altezza Duomo fissandolo ad una pensilina dell'ATM e ad un albero. Davanti al jeep Alex Baiocco ha chiesto scusa spiegando che non voleva uccidere nessuno. Al momento non si sarebbe reso conto della gravità delle sue azioni. Il 24enne è distrutto per quello che è accaduto e non si dà pace, ha riferito l'avvocato Dario Trovato. Toccherà ora al giudice decidere se convalidare o meno l'arresto e soprattutto se contestare l'accusa di strage avanzata dal PM Enrico Pavone. Prosegue intanto la ricerca dei due complici da parte dei carabinieri.